Ci presenta al video il nostro partner, la panetteria di Piero e Mari, Walter e Cristian, il corso Garibaldi 118 Sanremo. Andiamo ad analizzare con la nostra super e Moviola, tre momenti chiave della partita tra Taggia e Leggino. Il primo episodio è il gol del 2 a 1 di Murabito, come potete vedere l'attaccante è in posizione regolare. Il secondo episodio è il rigore assegnato al Taggia che ha portato al 2 a 2, Salmaso prova il numero dentro l'area di rigore, fallo di mano netto. Il terzo episodio è il rigore fischiato a Leggino, rigore netto, fallo di Mighinelli su Murabito.